GIGGINA Ecco qua Questa è Giggina Giggetta che l'ho avuta per una decina d'anni Adesso ho preso questo Nel 2012 ho avuto Giggetta Stavo bello, siamo andati fuori varie volte in Portogallo siamo stati con mia mamma ma vabbè avessi toccato i pelli quindi poi avrei rivoluto a Giggina Giggina questa è da 3 mesi che ce l'ho Cioè 3 mesi, lei c'ha 3 mesi è andata il primo maggio io ce l'ho da più di 2 mesi Adesso stiamo a a brevi d'agosto Il passotto non è bene sono cani che quando li inizi a trattare poi resti sempre con i passotti che sono cani dentro casa creano una atmosfera famigliare diventano persone di famiglia diventano di famiglia Si può essere alti 30 cm o ancora meno e guardare il mondo dall'alto in basso assolutamente certi della propria condizione di esseri superiori e si può essere presuntuosi orgogliosi e sicuri di sé e risultare lo stesso tremendamente simpatici Sembra incredibile ma si può o almeno lui può Il passotto tedesco è il cane più curioso e particolare che la natura e l'uomo siano mai riusciti a produrre è un ognomo a quattro zampe o forse un segugio visto allo specchio deformante di una parca una cosa è certa quando se ne incontra uno è impossibile trattenere un sorriso Lui però non si sente certo un clown con quelle zampe ridotte e minimi termini incede come se il mondo gli appartenesse nel suo sguardo c'è la fierezza di un cane che sa quello che vuole che si sente importante e che non considera la bassa statura un handicap ma un grandissimo pregio funzionale ha ragione se non fosse un tappo non potrebbe svolgere così bene il suo lavoro lui lo sa e se ne vanta questo vi sembra un prato inglese con l'erba tagliata molto bassa errore è una vera giungla in cui si può sparire completamente e questa è una scarpa o un'impervia montagna un pucciolo di bassotto specie se di bassotto nano o caninkhen è veramente piccolo nel senso più letterale del termine il problema principale è quello di non pestarlo per fortuna è un cane incredibilmente robusto e di ottima tempra un piccolo incidente di percorso ovviamente involontario non gli toglierà mai il buon umore nella voglia di tornare alla carica ci sono tre diversi tipi di bassotto standard, nano e caninkhen ci sono anche tre diversi tipi di mantello quello corto, lungo e duro il bassotto è un cane da tan ovvero un cuor di leone disposto a vedersela muso a muso con avversari agguerriti e spesso assai più grossi di lui in pratica non aspettatevi mai un cane tranquillo da parcheggiare sui cuscini lui parcheggiato ci sta al massimo per 5 minuti a meno che non ci sia qualcosa di interessante in tv il bassotto è un cane in perenne movimento correrà e salterà avanti e indietro raggiungendo velocità impensabili per un raso terra come lui tenterà anche le scalate più ardue si infilerà ovunque sfidando ogni tentativo di limitarne le azioni e distruggerà sistematicamente con somma soddisfazione qualsiasi piccolo oggetto che per lui possa rappresentare una preda il bassotto è un cacciatore e deve vivere come tale ovviamente noi siamo liberissimi di detestare la caccia ma non è giusto snaturare il carattere e le attitudini di un cane per seguire i nostri ideali quindi bisogna trovare un compromesso il bassotto ha un carattere forte più forte forse della maggior parte degli umani quando non vuole fare una cosa per esempio andare al guinzaglio resisterà con ogni mezzo in compenso quando vuole una cosa la vuole con feroce determinazione e fa l'impossibile per raggiungerla può tentare con le moine e gli occhi dolci che gli riescono particolarmente bene tanto che è quasi impossibile resistere ma può provare anche a usare le maniere forti o ricorrere al furto con scasso la persona di una certa età che non esce quasi mai di casa e che vuole il cucciolo da divano potrebbe pensare che il bassotto sia perfetto per lei errore un bassotto che non fa esercizio fisico in grassa e questo nuoce moltissimo alla sua salute inoltre può diventare nevrotico e mordace perché accumula stress ed energie senza avere mai modo di sfogarle il bassotto insomma è un cane dei mille volti nel giro di pochi secondi può trasformarsi da Dottor Jekyll a Mr Hyde e viceversa è un mondo fatto di orgoglio di umorismo di coraggio e di amore è un mondo di elfi e polletti visto dal basso forse ma capace di restituirci di quell'atmosfera fatata e scurreale che credevamo di aver perduto insieme alle favole due suonarPro mentre si ingentin il che ha minuto un il Grazie a tutti.